Anche mio figlio un bel giorno se ne andò. I figli, buoni e cattivi, se ne vanno sempre. È un destino. Non mi disse nemmeno dove. Non portò via niente. Beh, non c'era molto da portare via da noi. Ma non conta meglio così. Mai avere rimorsi per i soldi. Quando si rifece vivo. Era un altro uomo. Non lo potevo riconoscere più. Era partito biondo e mi ritornava per così dire più scuro di capelli. E cupo, pensieroso, chiuso. Avevo persino un po' di timore a guardarlo. Si sa quando i figli ti sembrano degli sconosciuti. Rimase lì, in casa. Era mio figlio, senza fare niente. E diceva certe parole, coglievo certe frasi. Noi stiamo attenti a tutto. Che discorsi, Dio mio, che discorsi. E non potevo capire. E quando si incomincia a non capire più i figli, è finita. Bisogna stare zitte e aspettare. Poi, una notte bussano alla porta. Chi è? Vengono a prenderlo. Dicono che è un sovversivo. Non chiedetemi se era di questi, di quelli o di quegli altri. Non ha molta importanza al fine di quello che sto per dirvi, credetemi. Io dico mio figlio. Un sovversivo. Lui che sta sempre chiuso in casa. Ma che ha detto? Che ha fatto? Le solite domande. Portato via. Scomparso. Il mio unico figlio. Un attimo fa era lì. Dormiva. E l'attimo dopo non c'è più. Poi mi arriva uno scritto. Che è morto. Roba da non credere, da dare di volta al cervello. Non c'è più. Ma io lo sento parlare. Lui che con me non parlava quasi più. Lo sento persino chiamarmi. Oh, voi signori del processo, voi avete parlato dei miracoli. Ci sono, non ci sono. Sono veri, sono falsi. Un gran discutere. Anche i signori laggiù delle poltrone. Altro discutere. Ecco, io non lo so se ho capito. Ma a me è successo un miracolo. Io vi ho detto che mio figlio era per me diventato come uno sconosciuto. Ma dopo la sua morte, mentre l'ammazzavano, lui è risuscitato. È risuscitato dentro di me. E io lo so. Lo sento. Lo so. Vi dico. Lo so che non passerà molto tempo. Che noi ci rivedremo. Perché è vivo. È ancora vivo. Non è una favola. È una certezza che si può toccare. Ce l'ha in un posto. In un altro posto. E mi aspetta. E ci ritroveremo. Ecco, io volevo dirvelo. Loro ci aspettano. Signori del processo, questa è una delle poche cose. in questa nostra vita disgraziata. Non ce la toccate. Loro ci aspettano. E voi signori dovete essere un po' buoni con il nostro Salvatore e con noi. Siate buoni. Buoni. Buoni.